Sono l'unica testimonia per ora di questo scooter elettrico a Bra, ho sposato questa causa perché volevo un scooter, volevo un mezzo che si trituisse l'auto, stufa dell'auto, poi in città non c'è parcheggio, io e due figli, e così ho iniziato a rispondere lo scooter a due posti, portare i figli a scuola, elettrico perché? Perché elettrico per me è tutto ecologico, non sporca, non mi costringe a manutenzione, olio, candele, marmita, non le voglio sapere come donna, non le voglio veramente sapere nulla, mi muovo tranquillamente, arrivo a casa, ogni due tre giorni l'ho tappo una rai, la corrente elettrica, lo carico, dentro e dormo, il mattino a posto, parto da miei figli e li porto a scuola, faccio il commissario tutto veloce, ed è eccezionale, due anni che lo uso, a 2.000 km, non ne ho mai fatto nulla, assolutamente nulla, lo sono caricato, le batterie durano tutto l'inverno, non ha subito danno neanche la parte elettrica, e sono super sorrisfatta, e l'ho preso chiaramente anche mio figlio.